Ciao ragazzi, qui si blocca sempre il video, ma come mai? Allora, è un po' di tempo ormai che collaboro con un grande personaggio che è Giovanni Fede io vi dico che ha dei prodotti veramente favolosi cercatelo su Instagram Delizie di Sicilia allora, praticamente ha veramente dei prodotti eccezionali certamente io essendo un pizzaiolo l'olio per me è il massimo infatti con Giovanni e Delizie di Sicilia che la dovete cercare su Instagram Delizie di Sicilia l'olio Eurogarden ma non c'è solo olio abbiamo l'aloe vera sempre di Delizie di Sicilia e poi guardate un po', guardate un po' cosa vi regala Delizie di Sicilia veramente, veramente dei prodotti eccezionali io saluto ancora Giovanni Fede ora io ho fatto un bel piatto di pasta stasera non tutti lo fanno, questo è praticamente ho fatto uno sfaghetto aglio, olio, peperoncino il pane, il pane raffermo che è fermo da qualche giorno lo sbriciolate e lo fate diventare croccante ora basta, solamente un gocciolino di olio Eurogarden a crudo e buon appetito Delizie di Sicilia su Instagram cercatelo